70 mila euro lordi sono 30 netti, che è una buona cifra, perché c'è tanta gente che si sveglia la mattina e lavora 12 ore al giorno e in questo periodo non si può asciugare il sudore, perché se se lo asciuga il nero gli va in bocca e non può mangiare perché è grezzo, che campano le famiglie con 1.400 euro, ma mi dite uno che sa dare due calci al pallone perché ne dovrebbe guadagnare 7 mila al mese, o sei un campione, allora se sei un campione produci marketing e allora va bene, ma uno che gioca a calcio mi dite quanto deve guadagnare in una terza serie, allora se parliamo di Iguain, se parliamo di Messi, quella è gente che guadagna l'inverosimile ma produce ricavi, in Cina non si producono ricavi, è chiaro quello che voglio dire, perché sento dire poveretti guadagnano 2.500 euro al mese, ma un po' è io ben